Dimmi tutto, Wille. Voglio vivere meglio di come vivo. Voglio vedere la mia famiglia più di una volta all'anno. E va adesso in avanti. Voglio mangiare una fetta di turta tutte le volte che mi viene volta, mi sono spiegato. In modo chiaro. Dicevi sul serio, Alce? Credo di sì. Pensaci bene. Che cosa abbiamo da perdere? Non sono un altro gioco. Nemmeno io. Prenderemo solo quello che ci aspetta come pensione. Non voglio nient'altro. Non ho centesimo in più. Parola ad un uomo. Sveglia, Albert. Aspetta. Al. Al. Albert. Aspetta il telefono. Che è morto? Non ha morto nessuno, è giù. Non parlo con i criminali. Hai sentito? Riaggancia. Non richiamo io. Che cosa vuoi? Il punto è tu. Che cosa vuoi? Vuoi svanire come il sole che tramonta? O vuoi fare un'uscita col botto? Morire non mi crea problemi, però non voglio farlo in prigione. Nessuno andrà in prigione. Si può sapere che state dicendo? Che cosa vuoi?